Il Lannificio Colombo è il leader mondiale nella produzione di tessuti in fibre nobili e per fibre nobili intendo Kashmir, Vicuna, Guanaco Colombo ha una grossa prerogativa, cioè quella di mischiare la preziosità della fibra con la creatività per cui una ditta veramente innovatrice, leader nel mercato e che propone nell'ambito dell'innovazione delle cose assolutamente nuove ad esempio dei tessuti mischiati per la prima volta con animali tradizionalmente considerati da pelliccia da cui si è colto la muta che perdono tradizionalmente in primavera e per cui noi riusciamo a realizzare dei Kashmir Visone, Kashmir Ermellino, Kashmir Cincilla che sono in realtà dei tessuti che oltre alla preziosità del Kashmir aggiungono la tridimensionalità che queste fibre così speciali riescono a dare l'azienda che fornisce tutti i marchi internazionali più prestigiosi ha da una dozzina d'anni una linea di pret-à-porter propria, il nome è sempre Colombo che traduce la qualità in un lifestyle, cioè noi non siamo moda, la moda non ci appartiene ma noi vogliamo creare un prodotto sia per uomo che per donna che sia il piacere di indossare una materia in una tradizionalità assolutamente rivisitata in una classicità fresca e rinnovata L'icona che nasce da questa creatività che parte già dal tessuto è certamente la giacca Kate la giacca Kate è un jersey molto particolare che non è maglia e non è giacca per cui ha il comfort che può dare la maglieria ma ha la vestibilità e la femminilità che un blazer accostato può dare sul corpo della donna Convinti e entusiasti di questo cashmere fleece che è la materia prima con cui è realizzata la Kate abbiamo potuto realizzare dei capi molto più sportivi, dei più mini, dei capi reversibili dei capi che qualche volta vengono stampati e qualche volta abbinati del tessuto tecnico proprio perché la finalità della nostra azienda è modernizzare tutto questo comfort e questa materia e questa tattilità che noi riusciamo a dare per il piacere di indossare della donna Nel modificare, rivoluzionare il tessuto e conseguentemente il modello abbiamo trovato per la Kate una molteplicità di modi d'usi per cui la Kate può diventare un capo molto più pesante, un cappotto, può diventare un capo doppio La Kate praticamente potrebbe accompagnare tranquillamente la vita della donna in tutta la stagionalità partendo dalla giacca fino al capo che usa per andare a St. Moritz in pieno inverno in mezzo alla neve Come sapete l'anificio Colombo è fornitore delle maggiori industrie moda soprattutto sulle fibre nobili Insieme all'imprenditore abbiamo deciso di affrontare questo mondo delle fibre, del lusso e di espanderlo perché siamo sicuri che il mondo del lusso ci appartenga dal punto di vista del prodotto la nostra è una donna attuale, moderna però con un occhio attenta alla qualità e al lusso una donna che schiaccia l'occhio anche alla funzionalità e al tempo libero ama la qualità ma vuole essere sviluppata